Uè, non fare il tacco incacchiato! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci Xyuderone! Dai! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi, tante tantissime novità come già vi avevo accennato nei giorni precedenti relative a tutti i misteri di questo capitolo 2 di Fortnite. Oramai stiamo prendendo confidenza con la mappa, con le location, con tutto quello che c'è di nuovo e devo dire che a me continua a non rovinare ovviamente le aspettative. Nel video di oggi ragazzi parleremo di un glitch che probabilmente non è ancora stato fixato che, come vi dice il titolo, vi farà guadagnare 2000 punti esperienza ogni partita ma potrete quadruplicarli fino a 8000. E' veramente una stupidaggine, vi farò vedere come fare. Parleremo anche però di alcune informazioni, ce l'ho qua, ce l'ho qua, ce l'ho nel crucio, ce l'ho il pesce mistico. Sono stati recuperati i suoni del pesce e vi darò altre informazioni e ovviamente sentiremo insieme un pochettino cosa farà questa leggenda di Fortnite. E ovviamente ragazzi un bel po' di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di Fortnite. Vigliacca miseria non è qua. Parlo della campanella. Ringrazio intanto tutti i ragazzi che ogni giorno mi seguono su Twitch dalle 8 alle 18 e ovviamente grazie, grazie mille a tutti quelli che utilizzano il mio codice creator Xyuderone. Dagli ragazzi perché in questo weekend potete supportarmi il doppio in quanto i creator hanno il 2x ottenuto per ogni vostro sciopazzamento sul nostro codice creator. Ma quindi, ciancio alle bande, e vando alle ciance, andiamo subito, mi sembra strano senza campanella, andiamo subito ragazzi a parlare dalla domanda di oggi. Se hai dimenticato tutto, domanda di oggi, qual è ragazzi il vostro posto preferito? Sembrava che mancava qualcosa che non... Qual è il vostro posto preferito ragazzi per atterrare in mappa? Beh, oramai l'abbiamo già conosciuta, la stiamo iniziando a capire. Il mio posto preferito è la fabbrica del succo Slurp. Vigliacca non mi dimentico, sempre il nome bellissima. L'idea di mettere questa fontana che continua a rigenerare shield e ovviamente salute, mi piace un botto. Bellissime anche le idee di utilizzare i fusti di Slurp per recuperare shield e anche il camion gigante con lo Slurp. Ditemi invece qual è il vostro posto preferito qua sotto nei commenti. Passiamo subito ovviamente al primo argomento di oggi ed ecco qua una bellissima panoramica di tutte le armi e gli oggetti in questo momento disponibili nella season 1 di questo capitolo 2 di Fortnite. La prima cosa che mi è saltata all'occhio quando ho visto questa immagine è proprio la mancanza del pesce mistico, quindi è normale che nessuno l'abbia ancora trovato in quanto non è ancora stato inserito nel gioco. Vediamo tutta la serie di armi, la R, il FAMAS, il fucile a pompa, bellissima la progressione che da normale ad esempio diventa il fucile pesante, il TAC che diventa lo SPAS, la mitraglia che diventa il P90, mi piace veramente tantissimo. E la possibilità di upgradare le armi, tanta tanta roba, un po' strani i fucile da cecchino se devo essere sincero, nel senso se dovessi trovare il fucile da cecchino viola preferisco il Bolt Blue, non lo so, ho più confidence e devo dire che non ho ancora trovato invece il lanciarazzi leggendario. Quindi una bella informazione per farvi sapere tutto quello che c'è in game. Ma andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento e volevo appunto darvi un'informazione o meglio farvi sfruttare un glitch che vi permette di guadagnare 2000 punti esperienza extra ogni partita. Se andate al ponte blu, è blu elettrico, ora vi faccio vedere una foto, alle coordinate E2 otterrete immediatamente 2000 punti esperienza ogni volta che lo visiterete. Il ponte in questione in poche parole è questo, si chiama ponte d'acciaio blu, è ovviamente facilissimo da riconoscere ma non è l'unico, ce ne sono altri 3 di ponti d'acciaio dello stesso colore nella mappa, ogni ponte ho letto che con questo glitch vi dà 2000 punti esperienza. Quindi un totale possibile di 8k, sfruttatelo, lo sfrutterò anch'io fra pochi minuti quando inizierò la live alle 8 perché è un ottimo modo per livellare velocemente e ovviamente senza nessun tipo di hacking. Ma andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi ed ecco una prima spolverata su quanto riguarda la skin segreta di questa season. Sì perché ragazzi forse molti non se ne sono ancora accorti, non ci hanno fatto caso ma nel set di sfide alter ego l'ultima voce che al momento per tutti noi dice raccogli le lettere che compongono la parola fortnite è relativa al punto di domanda quindi alla skin che torna finalmente a fare il suo ingresso in una season quindi una skin segreta speriamo ovviamente che non ci venga spoilerata da epic games. Questa immagine è molto interessante perché come vedete abbiamo già tutto l'elenco delle sfide che dovremmo fare appunto nella sfida alter ego e se andiamo a leggere là in alto abbiamo tre passaggi da fare per ottenere la skin segreta. La prima dice collezionare tutte le lettere nascoste nelle schermate di caricamento quindi la lettera la parola fortnite è composta da otto lettere non otterremo la skin segreta se non prima di otto settimane. Vi ricordo che non c'è tanto tempo per questa season il 12 dicembre sarà l'ultimo giorno e passeremo direttamente poi alla season natalizia e quindi alla stagione numero due. La seconda cosa da fare la seconda cosa da fare è cercare il backpack nascosto nella schermata di caricamento della settimana numero otto e la terza cosa da fare do the thing vuol dire tipo fai la cosa vestendo l'outfit Bane. Adesso io l'outfit Bane sinceramente non ho ben chiaro quale sia perché ho il gioco in italiano quindi non so se dirvi se sia una delle skin del pass battaglia o se sia qualcos'altro. Ovviamente penso di sì però ragazzi c'è tanto tantissimo hype almeno da parte mia per quello che sarà la skin segreta la voglio davvero vedere di brutto. E andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento si parla anche di un'altra skin ben famosa oramai da un anno presente nei file di gioco. Parlo ovviamente del Baobross i fratelli tortelli se li volessimo chiamare così li hanno inseriti addirittura all'inizio della season 7 dello scorso capitolo di fortnite parliamo proprio il periodo natalizio dell'anno scorso. La skin è già completa sappiamo che è epica sappiamo che ha quattro stili differenti corredata di back bling e anche di piccone. Il problema è che non è mai stata rilasciata si pensava che venisse resa pubblica qualche mese fa quando ci fu il Bao Day quindi proprio il giorno ufficiale di questo raviolo al vapore. Non fu così ma abbiamo degli aggiornamenti ve l'avevo detto anche sulla mia pagina di Instagram hanno aggiunto un file relativo ad una nuova versione della LTM battaglia con il cibo. L'abbiamo conosciuto a tutti nelle precedenti season il tomato contro il Durburger molto probabilmente però si dice che questa volta la battaglia contro il cibo sarà il tacos versus il baobross. Ovviamente non abbiamo ancora nessuna location in questa mappa inerente a queste due mascotte ma la voce che appunto vi dicevo che si chiama dumpling che in inglese è proprio il nome con cui il baobross viene indicato nei file di gioco potrebbe lasciare intendere che questa skin finalmente dopo tanto tantissimo tempo tempo venga rilasciata e resa pubblica. Beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per aver ascoltato le news di Fortnite anche oggi mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai canali lasciate un bel like noi ci vediamo dalle 8 in live su Twitch ciao. Grazie a tutti.